Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Diego Battistessa, qualcuno già mi conosce personalmente, qualcuno magari mi ha conosciuto attraverso il mio blog, il mondo di Kriptonite e Civismundi, del quale ho una pagina su Facebook e attraverso il quale spesso parlo di cooperazione internazionale. La cooperazione internazionale è uno dei miei principali interessi, oltre a essere anche il mio lavoro, e durante gli ultimi due anni mi sono dedicato allo sviluppo, parallelamente alla mia attività, di questo blog, nel quale cerco di dare un po' di informazioni per svelare questo grande mistero che si nasconde dietro la cooperazione internazionale. Da qui l'idea di creare questo spazio virtuale, che chiamerò l'angolo dell'aspirante cooperante, attraverso il quale cercherò un po' di rispondere a quelle che sono le domande che mi arrivano da tantissimi lettori e tantissime lettrici che fortunatamente apprezzano il lavoro che sto facendo sul blog. Quindi, qual è l'idea? Diciamo che tutti i venerdì vorrei fare un piccolo video nel quale risponderò un po' alle domande che mi giungeranno durante la settimana. Quindi, questo è un video iniziale, vi invito ad inviarmi le vostre domande, i vostri dubbi, e cercherò di rispondere alle prime domande durante il prossimo video che manderò in rete venerdì. Quindi, non vi dimenticate, il mondo di Kriptonite ci vi smundi, fate girare il video, soprattutto mandatemi delle domande attraverso Facebook, potete scrivermi messaggi privati nel mio profilo personale o nella pagina del mio blog. Aspetto un sacco di domande e vediamo insieme se riusciamo a svelare un po' questi grandi misteri che si nascondono dietro al mondo della cooperazione internazionale e capire un po' come si può intraprendere questa strada. Grazie per avermi ascoltato e aspetto le vostre domande. A presto!